Si aspetta una giornata abbastanza umida, perciò cerchiamo di vedere il lato positivo, è una tappa impegnativa, una bella tappa per noi come squadra, cerchiamo di dare il massimo e di raccogliere il massimo dei risultati. La conosci la salita finale? Mi dico che l'abbiamo fatta in discena nel Giro 2016, la ricordo della stessa posta e vedremo perché con un tempo così la gara verrà fuori veramente una gara a passi. Quale squadra prenderà le redini? Vedremo un po' come sarà formata la fuga, adesso è difficile da dire. Grazie mille.